Bene, al quinto posto di classificato, guarda il periodo di Lignones, con il numero 54, Sciacca Lorenzo, 57 punti e mezzo. Ha un po' più successo per essere Sciacca Lorenzo in categoria Lignones, però lui simbolicamente, certo. Io, esatto. Allora, ritira lui simbolicamente il premio, diamo anche per te il gadget. In ogni caso, il premio arriva a casa, quindi la garanzia ce l'abbiamo già. Grazie, ovviamente non tutti sono presenti, quindi, uh la la, cosa leggo qua? Uh la la, cosa legge qua? Allora, cominciamo dal sesto classificato. Stiamo parlando della gara One Shot, categoria signores. Allora, qua non mi hanno segnato i punti, quindi andiamo subito con il sesto classificato, con il numero 48 Randazzo Pina. È presente? Eccola qua. Allora, cosa diamo al sesto classificato? Quali sono i premi per il sesto classificato alla gara One Shot? Allora, per il sesto classificato abbiamo una camicia di tacchino. Poi, sempre per il sesto classificato abbiamo un pranzo, piuttosto che una cena al Country Day di Lettate Susseveso, alla cantina, alla cantina di Lettate Susseveso c'è una grande manifestazione per cui ti... il signor Moscardi premia. Moscardo, scusi. Ok, questo è quanto. Allora, ragazzi, siamo Randazzo Pina dalla Sicilia, ragazzi, in tipo questi chilometri non sono così, se non sono stati vani. Assolutamente. Voglio vederti però dalla Sicilia venire allentate Susseveso, provincia di Milano, a prenderti un pranzo. Quanto ti costa? Allora, quinto classificato. classificato, giusto, giusto. Col numero 52, Sanerno Gianluca. Sicilia, ancora. Ragazzi, la fatta la padrone, eh? Allora, al quinto classificato viene consegnato. Al quinto classificato viene consegnato un giubbetto, tacchino. Premia sempre il signor Moscardo. Poi, aspetta perché non è finita qui, eh? Hai una fornitura dalla Milano Drink, quindi di questi prodotti da Milano Drink. Allora, qua, ragazzi. Oh, si fa la tosta una cosa, eh? Siamo già al secondo classificato, o seconda, io lo sa. Posso dirvelo? Seconda. Seconda? Seconda classificato. Nord, centro o sud. No, non si può dire, se non è facile, se non è uscito. Allora, facciamo al contrario. Diciamo che cosa vince. Allora, il secondo classificato, classificata, vince un weekend al Cowboy Guest Ranch di Boghera. Un weekend in mezzo al Sena Natura, ai Cavalli. Ce ne saranno delle belle, ragazzi. È un grande weekend, io l'ho trovato. È fantastico. Passate due giorni da avere il Cowboy. Quindi, vabbè, ok. E c'è ovviamente la tag anche della East Wardone, assolutamente sì. E allora non mi resta di tanto un affare che dirvi che, secondo classificato, classificata, alla gara Signores One Shot, è la numero 47, della Citi Giuse Maria. Sicilia Maria. E la Sicilia, la Conta Padrone, eh. Prende sempre il signor Moscato dell'Ente Fiera. Grazie. 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 Grazie.